Musica Ragazzi in questo video ci sono parole forti contro le divinità Pertanto se siete suscettibili a tale parole Beh, chiudete il video Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumped Online Online oggi non c'è Giorgio Quindi facciamo i bravi per favore Siamo oggi tornati ragazzi con un nuovo videogioco Ovvero What in the Box Ho pronunciato bene perchè qua abbiamo gli inglesini oggi Si, What in the Box Comunque non è What in the Box, è What the Box Ah infatti, ti ho appena detto l'ho pronunciato bene Comunque non è What in the Box No, non è che l'hai pronunciato, è proprio una puttanata Siamo tornati su What the Box Online Dove sarebbe essenzialmente delle scatole Questo gioco è ovviamente online Quindi con delle rampe diciamo Senza rampe Qua ci sono delle scatole bellissime Dai, bellissimo Allora i nostri nomi capiscono tutto Abbiamo Lavatrice che lava i panni molto bene Pene duro che penetra tutti E lava sto vieio che lavi piatti e ha paura del calcare Perfetto, diciamo che a nomi ci siamo ecco A nomi ci siamo Però ci serve anche magari Scusatemi Conto me servirebbe un cristaccio No, ci servirebbe più che altro anche un'appartenenza Mamma mia Cristaccio Ah, ma sei tu cristaccio? Ma che significa? No, Giorgio, questo nickname è molto religioso No, no, no Eh, diciamo, è un cristallo di ghiaccio Quindi cristaccio Inchi, aspetta che non gucciava uno What the fuck is... Oddio Basta, Giampiero, basta Su, come hai fatto? Ma non mi ha toccato Ah, chi è che non ti ha toccato? Zitto, sennò tu copriva questo gioco è forte Ragazzi, andate a vedere il video di Murray che ha fatto 40 kill, vi prego Ma che sta a dire? Ma ha vinto una partita su tre Ma che cazzo sta a dire? Regà, dove state? Regà, dove state? Regà, dove state? Porre! Ma guarda! Ti ho fatto il trick! Mi hai fatto un trick! Ma non c'è la minimappa in sto gioco Ha fatto un 360 cool scope Perché mi ha messo un po' culo Un culo scope C'è il rumore Cioè diciamo All cops are bastard Guarda, guarda, guarda 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 che camper Oh mio Dio Contro chi sto giocando Oh mio Dio Sto vomitando No, no, no No ragà, non potete Non potete fare così Ragazzi, lavastoviglie Prende il po' Cioè, siamo sparati accanto Eccolo là, cristazzo Figlio di puttana, cristazzo Ciao, cristazzo Che cosa sta diventando? Una messa? No È cristallo di ghiaccio È cristallo di ghiaccio È una giungla, cazzo V'ho sentito, v'ho sentito Dove state? È di usare la... Ah! Porca mia, raga Minchia, cristazzo Ma sì, cristazzo prima Appena muoio vi faccio vedere Che nuove ho Che nuova nickname c'ho Eccolo là Guarda Guarda che mi sono spostato E mi ha ucciso Io non c'ho parole Sto schifo Realmente lo schifo Oh, ma dove cazzo si sento il vostro rumore di merda Ma non vi trovo Sto vomitando Eh, aspetta Io devo fare il tipico suono Della lavastoviglie Della lavatrice Ah, vai Ah, vai Veramente ridicola questa cosa Non mi cambio nome, perché? Perché fai schifo Dai, dai Papà, se lasci nick devi scrivere, cretino Tale che è ritardato Minchia, che è proprio pirla Orsa, orsa Nel dubbio inizia a coltellare tutte le staccatole che mi si pongono davanti Infatti, dove sta? Che ci sarà lui che sta camperando da qualche parte Ovvio, è lui Raga, dove si... Beh, no! È ricastrato, vaffanculo! Ok, raga, cristaccio proprio non si batte Era proprio regola che dovessi rimanere cristaccio Secondo me, se diciamo che è cristallo più ghiaccio, si può dire Ok Vaffanculo! Giorgio nelle sue partite non ha vinto una volta Cacchi, vici schifo Ragazzi, ma ci credete che... Oh! Donald! Ciao, ragazzi Ma ci credete che Donald è una parolaccia su questo gioco? Vieni, raga, vi spacco tutti Sono impazzito Sono matto È pazzo È pazzo È pazzo di tutti È pazzo È pazzo È pazzo Murri il pazzo Murri il pazzo No, ero pazzo, però adesso mi hanno un po' placato gli altri Ragazzi, questa mappa prima era on fire, quindi attenzione Potrei riprendere a fare l'on fireata Sì, vediamo Ma diciamo che il gameplay è abbastanza movimentato, soprattutto anche... Porr, basta! Minchia! Gian Piero, non devi dire queste Questa proprio l'ho presa e l'ho lanciata così Minchia, mi è passata accanto prima di schiantarsi al muro L'ambientazione varia, ecco Anche i personaggi sono... Ma ci credete che sono impazzito in questo gioco? Perché nei tuoi video fai sempre cagare Muori adesso! Ma che cazzo è? Zitto, tu perché apri le porte? Diciamo che in questo gioco quante skin ci sono Zitto, mamma mia! Come è fatto? Come è fatto? Ho sentito il rumore, diciamo, del pro player Ho sentito proprio il fraccione che mi diceva colpisci, viciozzo Porr C'è, spawnato accanto Ragà, 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 muovese in culo Minchia, sono secondo Guarda, che... Ma che feste che sono, cazzo! Che riflessi, ragazzi! Che riflessi! Sì, sì, anche a me mi sembra di aver visto dei riflessi abbastanza movimentati Mamma mia, ragazzi, che forza! Che forza, ho sentito il rumore, sono troppo forte Minchia, raga, c'ho paura della fregna Eh, si sapeva! I suoi rinno son fire di nuovo in questa... È la mappa, ragà, è la mappa È la mappa, è la mappa È la mappa che ti fa il più forte dell'Italia YouTube, YouTube ragazzi Mamma mia, ragazzi, sono la scatola più forte del mondo Mamma mia Mar... No, cristaccio, cristaccio Mamma mia, siete tutti uguali, ragà, è pieno di scatole qua Mi stormi, sei per spicace Guarda, mamma, non è possibile! Dai, basta, che stai rompendo le scatole adesso Tu madre, bella fricaccia Marco Frigatti per il Guinness World Record Barbara D'Urso in Coronamy con la... di Parne Da quando? Fratelli Ma eri morto, eri morto, eri morto Tu, compazio, compazio, sono impazzito Io ammazzo la gente col cuore Tu padre, ma io non c'ho parole Sono la persona più pazza sulla terra Voi mi prendete e mi mettete in una barattola Bestia Bestia Su, cazzo No, dai, ogni volta mi riammazzi 13-13 IGN 13-13 Dai, abbiamo un minuto e 22 per fare dello spettacolo dello show puro di pro-playing Vai, facciamo dello show puro, padre Facciamo vedere agli utenti di YouTube come si gioca Sì, sì, a me mi piace giocare con i videogiochi Con tuo padre Cosa è questo silenzio? CASTOR, mi stavo saltando, ti stavo trollando de Cristo Sì, sì, bravo, Donald Sì, sì, jumpy, dai che stai zitto, dai Ah, ti ho detto stai zitto, io mamma, ti mi sembra un compusticchio Eh, infatti, ammazzava i Saniaghi Però mi siete killati under the mark Però basta che solo sopra di te mi basta Eh, è vero, sei sopra di me Ah, regà, ah, regà, muovi Beh, la frate è zio Porco Dico anch'io, dai Così facciamo una kill streak, diciamo Su, cazzo, Stormy Guarda che camper Che schifo, siete schifosi, veramente Su, cazzo, Giorgio Il signore Zitto Devi stare zitto e muto In silenzio non puoi palpitare Hai ragione Ho capito Vabbè, sei il più forte di tutti Hai ragione Cazzo Cazzo Vabbè, finché mi ammazza Donald mi sta benissimo Basta che non mi ammazza Murray Non ti farà ammazzare, Stormy Guarda, guarda, guarda Dai, 15-16 Non ci credo Raga, sono sponsor ufficiale di Yoboilondon È pazzo No Mamma mia No, il 16-16 Il signore Sì, sì, sì Legno Dai, dai, dai Dio Ti giuro, porco Porco Toma mia Rage Sì, va bene Rage Complimenti al signore Non ci credo Che schifo Veramente È la partita peggiore della storia Ragazzi, per questo video è tutto Avete visto che le lavastovigli Hanno il predominio sul web Quindi nei commenti Hashtag Lavastoviglia Un secondo, un secondo, un secondo Una cosa, vero? Devo leggere una cosa Aspettando Stiamo andando verso questo discorso Ci sono, ci sono Ci avviciniamo Ci avviciniamo Attenzione Eccolo qui Grande scena con Gesù Fatto a Quindi ragazzi Per questo video su What the box Era tutto Se volete altri video Fatemelo sapere Con 15.000 pollice in su Ed un commento qua sotto Mi raccomando Nei commenti Hashtag Lavastoviglia Da Giappitech è tutto Ciao ciao Online Illuminati Club Ciao ciao